La strada, che però è utile. Assolutamente sì, assolutamente sì. Se sono barriere più o meno definite nel tempo, ha poco senso magari mettere, è chiusa la strada perché sono arrivate le giostre e quindi non posso passare perché fra una settimana probabilmente non ci sono più, ma se per consuetudine c'è il cassonetto della spazzatura sul marciapiede che blocca di fatto lo spazio e il passaggio alle carrozzine, va segnato. Così come ha senso segnare, e anche qua c'è una serie infinita di progetti, sulla viabilità di chi è in carrozzina. Dove sono stati misurati, dove sono stati segnati i marciapiedi dove non c'è lo scivolo per la salita, dove costantemente è bloccata il passaggio da un ostacolo. Se il cassonetto è sempre lì, è vero che non dovrebbe stare lì, ma è sempre lì, tu lo mappi lì, sul marciapiede, perché è vero che dovrebbe stare magari dall'altro lato della strada, ma si è sempre lì, non ha senso dire sarebbe dovuto essere di là, ma non lo è. Quando lo tolgo, lo tolgo. Esatto. Qua entriamo nel concetto di cos'è l'ufficialità. Cos'è l'ufficialità di Pompei? È l'ufficialità rappresentata da Google Maps? O è l'ufficialità rappresentata dalla foto aerea? O è l'ufficialità rappresentata da OpenStreetMap? Qual è? Cos'è l'ufficialità? L'ufficialità è ciò che il governo locale o statale vuole far vedere, o è ciò che la gente ha e vive tutti i giorni? Se tu passi sempre da quella strada, ed è sempre bloccata perché abusivamente qualcuno mette un banchetto che occupa tutto il marciapiede, e quindi non puoi passare dal marciapiede, è sbarrato. Fine. Quando la situazione si risolverà, lo toglierai. Certo, c'è da mettere in considerazione il fatto che tu abbia la forza di fare la modifica oggi e impegnarti già da oggi a rifare la modifica quando fra un mese la situazione cambierà. Ha poco senso, nello stadio in cui siamo della mappa, fare queste cose dove magari manca ancora la strada, o manca il nome, o manca l'indirizzo. Ha secondo me più senso lavorare ad avere un layer base di dati importante e non queste cose. Però se c'è una tematica, se c'è qualcuno che vi paga o vedete del business nel fare questa cosa, ci sono i motivi per farlo. c'è Open Wheel Map su OpenStreetMap Wheel Map mi pare questo è OpenStreetMap con applicativi mobile per raccogliere informazioni sulla accessibilità da parte di portatori di handicap che hanno problemi con la deambulazione. queste sono informazioni sul fatto che io non la conosco benissimo questa fermata non è accessibile la fermata di Unterdenlinden e Friedrichstrasse non è accessibile ai portatori di handicap questo mette insieme i vari tag legati all'accessibilità e li visualizza su un'ottica di accesso in carrozzina questa è una cosa è interessante è un byproduct che non avete in nessun modo con Google Maps torno a farvi vedere una cosa qui se mi aiutate andiamo a trovare sul discorso volevo farvi vedere qualcosa sul discorso dell'ufficialità brava se mi aiutate a trovare Nairobi mentre ci avviciniamo noterete delle differenze un po' come sulla settimana enigmistica qua sulla sinistra continua a riempirsi di dettagli questa zona qua sulla destra è stranamente vuoto perché? perché? perché è vuoto? perché il governo di Nairobi non vuole far sapere che a Nairobi in una zona a sud che ufficialmente è classificata come parco cittadino esiste questo è una baraccopoli dove abitano due milioni di persone qual è ufficiale? quale delle due è ufficiale? cos'è ufficiale? è ufficiale quello che dice il comune di Nairobi? oppure è ufficiale quello che la gente che è stata là ha visto? questo è diciamo questo è come il comune vorrebbe che fosse la zona e quindi visualizza ciò che da piano regolatore generale di Nairobi quello è un parco le scuole? qui di fronte c'è quello che per il comune di Bari è un parco io ci ho visto posteggiate ieri circa 100 automobili cos'è ufficiale? è un parco o è un parcheggio? io che ho fatto la mappa di questa zona ieri l'ho segnato come parcheggio perché a me sembra un parcheggio ma è segnato pure che il comune è un parco? sì è ari verde sono segnalate entrambe le cose cioè il comune è un parco ma in realtà è un parcheggio? no perché il suo pain street ma mappi la realtà percepita il fatto che sia il fatto che il comune ti dica che è un parco ma non lo è non lo segni cioè se avessi bisogno di avere una mappa tutte le aree che sono parchi in realtà sono occupati a musica ah lui lui ok dicevo se io volessi segnalare volessi una mappa in cui sono segnalati tutte le zone che ufficialmente sono parchi ma in realtà sono parcheggi abusivi sì quindi cioè mischiare le due mappe praticamente allora per avere la prima informazione devi andare dal comune perché io non ti so dire se quell'area per il comune è parco su questo te lo so dire ma in generale non ti so dire su tutte le aree se sono parco se sono parco o meno devi andare dal comune e chiedere questa informazione ti so dire cos'è potrei anche scrivere ufficialmente come tag ufficialmente è comune scusa ufficialmente per il comune è parco e scrivere nella realtà è quest'altro però non lo posso fare se non ho l'informazione a monte dal comune come fai a saperlo che è un parco per il comune a realtà sul sito del più pendato del comune di Bari ci sono le aree verdi per esempio quindi diciamo quello che diceva lui come si realizzerebbe cioè se noi facciamo per esempio una mappa delle aree verdi di Bari poi andiamo a mappare fisicamente quelle che non sono le aree verdi cioè puoi fare quello può essere un'opera di marketing diciamo tu vai prendi i dati del comune e dai visibilità di cosa di cosa non è corrispondente con la realtà in una prima fase potresti dire carico i dati del comune su open street ma poi li vado a verificare uno a uno e scrivo che non è vero che è parco ma che è parcheggio per esempio anche nelle aree verdi ce ne sono ci sono vabbè perché penso che bisogna farlo però diciamo le superfici comprendono anche i viali alberati che spesso sono viali super trafficati come dire sì per cui in realtà quella superficie di area verde cioè non è uno spazio utilizzabile come dire esatto quindi segnalare cose di oppure una delle più grandi è il cimitero visto per esempio che non è sì capisco che insomma non è propriamente uno spazio pubblico in cui tu vai a fare mi date una mano ritrovare scendo siamo qua ah tridente Nicola eccolo ah guarda non l'hanno aggiornato vedi anche qua è segnato come qua è segnato come inesistente questa zona generica la zona generica di cui non ci sono i palazzi non c'è nulla è grigio un grigio generico non è magari a volte il dettaglio è troppo elevato su OpenStreetMap però in questo caso ti dà una lì c'è un parcheggio che sia ci posso posteggiare sì ok quindi è un parcheggio secondo me posso farti una domanda ci spieghi qual è il il meccanismo di conflict resolution cioè penso a per esempio per fare un esempio zone tipo i confini dei territori palestinesi come su come su Wikipedia avviene il meccanismo di conflict resolution su certe pagine è chiaro no? come funziona allora il uno dei vantaggi di OpenStreetMap è quello di darti la possibilità di visualizzare le informazioni nella tua nella tua lingua ad esempio e quindi di di limare alcune di queste di queste problematiche che ci sono state soprattutto a Cipro fra le due fazioni che abitano l'isola e esiste all'interno di OpenStreetMap un working group che si chiama Data Working Group che si occupa di gestire questi conflitti che di solito si sfociano in bande avversarie che fanno edit contrari e quindi scrivono in russo nella parte non russa di Cipro e scrivono in cose tipo il confine qua no? il confine qua ci sono ci sono vengono risolte non c'è un modo c'è un modo per per calmare le persone che è quello di bloccargli l'account per totore e quindi non possono più fare edit non c'è un modo per bannare delle zone quindi in quelle zone non puoi fare edit non esiste questo non c'è il modo di bloccare le pagine come su Wikipedia diciamo che la barriera di ingresso comunque è ancora abbastanza alta e quindi casi del genere non si presentano spesso esiste un sistema che è figlio del fatto di avere una cosa che si chiama change set ecco questo è il mio utente queste sono le mie modifiche questa è una modifica 18.316.238 di tutto il database e questa è una modifica è una delle modifiche che ho fatto io ed è tutta mia è atomica ha il modo di fare un revert della modifica se è in conflitto con qualcuno la strada è il dialogo non esiste un sistema per cui no mi domandavo se c'era un organismo codificato come in Wikipedia perché effettivamente abbiamo avuto un'operazione di mappatura anche una parte valenza identitaria in certe in certe zone del mondo sicuramente no perché stando qua non siamo in grado di decidere su cose non nostre così come non avviene nessun intervento sulla categorizzazione delle strade perché ciò che è una strada principale in Italia o un'autostrada in Italia potrebbe non aver senso in Nigeria non ha le stesse caratteristiche di larghezza di tipologia di asfalto e di guardrail e colonnine di sosta ogni 500 metri e quindi non ha il modo di contribuire al decidere per loro cosa vogliono viene lasciato alle comunità locali in Russia ad esempio hanno deciso di eliminare le basi militari da OpenStreetMap e l'hanno fatto i russi l'hanno fatto non è che non può intervenire più di tanto perché se vai e le rimetti è più forte la comunità locale che li va a cancellare in Germania invece sono estremamente dettagliate le basi militari così come in Italia il fatto che alcuni non vogliono si vede la maggioranza fondamentalmente però non c'è un sistema di voto sulla singola caratteristica o sulla determinata area non c'è non mi ricordo neanche perché vi avevo aperto questo ah per la qualità dei dati questa è una cosa che ho pubblicato da pochissimo e è frutto della liberazione di dati da parte del comune di Pavia in cui viene messo in evidenza dal mio rendering l'anno in cui sono stati realizzati i palazzi per la prima volta quindi come vedete la parte centrale è più rossa delle altre perché rosso è più o meno il dal 1200 al 1880 queste sono le classi di età date dal comune non sono state scelte da me quindi erano divisi in queste nove classi come potete vedere su alcuni voi probabilmente non ve ne rendete conto perché non non conoscete la città ma ad esempio questa zona non è così recente da non avere ancora una classificazione di data quindi di essere estremamente recente quindi del 2012 ma è una zona che esiste da 30 anni dove il comune poiché ha pubblicato i dati male non ha messo nessuna data questa è la prova ulteriore che con una buona visualizzazione è riuscita a raccontare una storia finché il dato è chiuso nel cassetto del geometra del comune di Pavia non esce questa cosa io ti do il cd con su lo shape file dei dati di Pavia e tu si ok te lo visualizzi grazie bello e basta è lì ho visto che in alcuni palazzi mancano le date fine se lo riesci a visualizzare puoi raccontarci una storia sopra ed è interessante secondo me adesso non ho ancora deciso cosa farci di questo magari lo userò per raccontare qualcosa legato a questo argomento questo chiudiamo ah sì volevo farvi vedere questo qua ho fatto una campagna recentemente di mapping estremo delle linee del trasporto pubblico urbano di Pavia dove ho messo dove ho pubblicato ogni singola fermata dell'autobus e ogni singola linea ne è uscito che alcuni ragazzi mi hanno contattato e stanno facendo il file gtfs per metterlo che è il formato standard è uno standard scritto da google per l'interscambio di informazioni sul trasporto pubblico stanno creando questo file e stanno mettendo in piedi un online trip planner perché la locale azienda del trasporto pubblico non ce l'ha e lo vogliono fare loro e stanno usando i dati di OpenStreet ma per realizzarlo però si può fare si può fare è una cosa questa qua è un lavoro che abbiamo fatto si può fare dal basso i dati li abbiamo caricati io e diciamo quello più attivo di questo gruppetto in due settimane vedendoci un paio di sera settimana andando andando in giro sapendo dove passano gli autobus so dove passano gli autobus io abito a Pavia da sempre conosco dove passano gli autobus ho chiesto alla gente che li utilizza ho chiesto a un paio di autisti non ho usato fonti commerciali i miei mio padre amici dove passa quell'autobus ti ricordi la fermata che c'è lì avanti sì ok si va a vedere si passa si fa la foto per quanto riguarda i dati del della degli orari sono resi disponibili dalla società ma anche lì viene omessa la licenza li ho contattati anzi no è diverso io ho pubblicato questa mi ha scritto un giornalista del giornale locale ha voluto ripubblicarla sul quotidiano della provincia a quel punto l'azienda si è accorta che io gli stavo telefonando da due anni erano in ferie mi ha contattato sono andato là e gli ho chiesto qual è la licenza dei dati i dati sono lì chiunque li può usare no i dati sono lì quindi nessuno li può usare io uso sempre l'esempio della chiave della chiave dimenticata nel portone di casa se tu esci e lasci la chiave nel portone di casa tu sei stupido però il criminale è quello che arriva ti entra in casa usando la tua chiave non è che perché tu lasci la porta è un invito a un estraneo a entrare e cucinarsi un piatto di pasta in casa tua è diverso questa è mancanza di consapevolezza sui concetti legati al diritto d'autore molti pensano che valga quello che dicevi tu prima se uno dimentica di scrivere è libero uso e invece c'è il sinalagma che dice che se c'è una legge più forte a prescindere comincia quella sì esattamente mi chiedevi per la raccolta di dati tornando a Pompei vediamo quando ho organizzato questa cosa aspetta che prima lo cerco poi quando organizzai questa cosa anche qua la sovrintendenza ai beni archeologici di Pompei a mia lettera che da qualche parte è un po' sull'ardisca e scrissi siamo un gruppo di una ventina di persone vorremmo venire a fotografare Pompei possiamo farle foto perché sapete che c'è il diritto di panorama e quindi non potete fare foto dei monumenti gli abbiamo chiesto di fare le foto e se proprio ci volevano bene di regalarci il biglietto d'ingresso la risposta è stata no alla prima e no alla seconda arrangiatevi noi siamo entrati abbiamo pagato il biglietto abbiamo fatto le foto e non le abbiamo pubblicate perché la legge dice che tu non puoi pubblicare le foto ma le foto le puoi fare quindi abbiamo fatto le foto le abbiamo utilizzate per i nostri scopi OpenStreetMap e per correttezza non le abbiamo mai pubblicate però abbiamo raccolto comunque dati e la mappa l'avete vista scusate avevo la finestra aperta adesso ve l'ho mostrata questo è il risultato del la lettera della subintendenza la risposta della subintendenza l'avete pubblicata io ce l'ho non so lui ha una lettera in cui dice che mi ha dato l'autorizzazione io ho la lettera in cui lui mi dice che non ti do l'autorizzazione ho bisogno di qualche numero di telefono ok interessante quello era non so se l'avete visto io mi ero distratto nel frattempo questi sono i dati che aveva raccolto in un pomeriggio che eravamo in poi alla fine siamo andati in una dozzina di persone e ci siamo poi qua c'era un bar quindi ci siamo ritrovati lì i pallini sì era il momento in cui lasciavi la molechina di pane questa era prima e poi non so se appare anche il dopo per fare dei autobus si può fare un driving nel senso che lo fa la macchina sì 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 assolutamente c'è già tutto un software legato a a vi mostro anche questo è bellino sicuramente l'avete già visto forse questo è per darvi l'idea di quanto la comunità è basta si sente benissimo ognuno di queste ha un simbolo edit durante un anno in basso sinistra vedete l'andamento nel calentario più è il dato bianco più è 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 più l'acqua sì perché c'è una maniera quello dell'avare in questione c'è un c'è un lampo bianco e sono stato io nell'altro video c'è un certo momento in cui l'Italia ha fatto esplode perché ho fatto un import io una volta di confini comunali che è stato il primo è stata la prima donazione di dati da parte di un ente statale italiano che è stata fatta grazie alla mia lettera da parte di istat e no mi capite sul Sara non ho detto proprio il Sara è tutto nero manca il rato il Sara ah questi sono vedete se vi interessano qua ci sono dei vari template per i trasporti queste sono tutte le linee di pavia con ad esempio se andate qua avverete tutto il percorso cose che è impossibile da avere ad esempio dalla locale amministrazione dei trasporti oppure potete vedere su mappa il percorso completo anche anche questo è estremamente utile anche per fare l'editing questo non c'entra nulla torniamo di qua wiki data sarà adesso va bene ritorniamo a bomba l'argomento sarà è una fonte da cui potete accedere se volete riempire la mappa monumenti posizioni coordinate stili tipologie varie si sta popolando il sistema quindi lo potete usare a una fonte è una licenza cc0 e quindi è liberamente utilizzabile dentro una osm un'altra cosa a cui secondo me avrebbe senso di considerare in un'ottica di sviluppo business è un sistema legato a la contrapposizione dei due mondi chi è abituato a adesso stiamo vi faccio vedere questa cosa perché stiamo lavorando alla traduzione in italiano di questo sito web avrebbe senso localmente organizzarsi per fare da punto di raccolta di chi potrebbe essere interessato a passare da google maps a open street map per vari motivi questo è un sito web dove elenchiamo le motivazioni per cui ha senso il passaggio per motivi di mancanza di pubblicità su open street map libertà di aggiornamento del dato libertà di utilizzo in qualunque situazione questo è una di quelle cose a cui l'editor adesso vi farò vedere brevemente un po' di cose e passiamo direi che passiamo alla poi passiamo subito alla fase sono dilungato forse un po' troppo qua avevo preparato delle cose poi ve le lascio comunque questo è interessante non so se lo conoscete ma posmatica speriamo che funzioni oggi poi se andiamo avanti poi ci torno vi permette di creare una immagine o un pdf in automatico della vostra città comprensiva dello stradario cittadino quindi vi ritrovate con un pdf dove a fronte avete la mappa divisa in quadratoni tipo metropolitana di Milano e sul retro un elenco dello stradario con indicato a quale quadratone andare a ribeccarvi il quell'indirizzo è una cosa io lo trovo molto simpatico come sistema vedete fa una cosa del genere potete scegliere lo stile questo abbiamo qua vi ho già parlato di Pompei c'era questa cosa per cui non non si poteva fare direi che passo a questo 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 ad esempio è una cosa su cui si potreste lavorare i trasporti pubblici non ho trovato grande informazioni sul trasporto pubblico locale a Maria potreste ma di passare il trasporto pubblico sarà delegato a una società partecipata dal comune no non va è giù niente cosa facciamo un po' di editing ok io però comincio a avere il torcicollo perché io non vedo niente al mio monitor la duplicazione non va non so come fare dov'è vi ricordate dov'è che distribuzione ubuntu 12.4 senza unity si non c'è non è così dov'è system tools system settings no vai su configuration e mi cerco di questa displace il mio roll display quella checkbox la c'è applai ce l'ho grazie ma no mi evito il torcicollo vedete ciò che vedo io registrazione registrazione sito web oson.org sign up credo che qua riuscite a farlo e vi arriva la solita mail di conferma oppure potete usare anche i vari social editing qua potete scegliere il layer da cui basarvi per partire sistema di semplice sistema di controllo di geocoding andiamo su bari ad esempio andiamo di mappare qualcosa effettivamente come vi dicevo prima il sistema è basato su un API e quindi questo vuol dire che sul server esiste un un luogo dove l'API va a manifestarsi e questo luogo è interrogabile da sistemi vari che possono essere sui stacco scusa no no ci sentivamo questo sistema è interrogabile sia dal da un applicativo web sia da un applicativo desktop ci sono vari sistemi per fare edit quelli supportati direttamente dal da 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 openstitema.org sono id che è un browser di nuova generazione scritto in interamente in d3 in javascript l'altro è il l'editor online le chiamiamolo legacy scritto in flash che era un po' ormai aveva un po' perso di significato e l'altro il terzo sistema ti permette di collegarti a un editor remoto che sta che sta sul tuo sul tuo computer sul mio io solitamente utilizzo questo quello remoto sul mio pc adesso infatti lo faccio lo faccio partire si chiama jose j o java open street map è quello che vi consiglio di utilizzare perché non utilizza una non è legato al browser è più stabile potete salvarvi dati in locale potete fare upload più tardi è un po' più flessibile è problematico se cominciate a fare grosse modifiche senza capire quali sono a cosa può portare la modifica che state facendo diciamo all'inizio potrebbe aver senso fare qualcosa con con id che è questo anzi cominciamo a fare qualche modifica con id e poi magari passiamo ad usare joseph perché alcuni primitivi dati sono difficilmente gestibili con con questo avete una zona che avete visto carente e bisognosa di di nostre cure dimmi possiamo andare a segnare le rovine storiche che abbiamo visto ieri ieri siamo andati in città e abbiamo fatto una città vecchia una città vecchia sì questa è la città vecchia con il con le mura che probabilmente era il porto nella parte sul porto questo era il resto delle rovine della delle mura medievali perimetro delle mura veramente male le foto possiamo segnare queste placche ad esempio ok ok sì Piazza del Ferrarese dovrebbe essere qua. Sì, questo cavoro, dovrebbe essere questa. Io ammetto che con questo editor non sono molto bravo, quindi farò una modifica e poi lo chiudo perché ho paura. Già questo, sì. Strada romana. Possiamo vedere tutti i tag qui sotto. È un'area, è storica e ci sono delle rovine. Il nome è strada romana. Paola, conosci un nome più preciso per questa... Per la strada? Per la strada, sì. No, non ha un nome. Non ha un nome? No. Questa. Niente, lo lasciamo strada. Allora, segniamo... Qui, l'altra cosa che abbiamo notato ieri è che c'erano i resti del... C'era quantomeno la posizione dei vecchi resti delle mura. Quello segno nero che c'era a terra. E quindi, quello invece lo possiamo segnalare. Andiamo su Linea e cominciamo a disegnare quello che ci ricordiamo essere dalla foto. È purtroppo venuta male. È questa ed è parallela fondamentalmente al... al caffè. Ed è qua. Quindi lo assegniamo come da qui... a qui. Doppio clic alla fine. Scrivo historic. Una linea per... Ho visto per essere una... Una linea retta. Come si potrebbe... Sì, una linea spezzata, un arco, insomma. Paola, come si potrebbe chiamare quello? È viettaniato? No, il resto... I resti delle... I resti delle mura. Come chiamare così? No. La traccia dell'antica fortificazione. Ne nemmeno la traccia. Ne nemmeno la traccia. È la linea, vediamo. È la linea che rappresenta l'antica fortificazione. Niente, non... Quindi viene difficile... È una linea immaginaria e dovremmo trattare... No, a caso, perché quando è l'antica fortificazione, cioè loro i resti li hanno trovati, sottolineano che non erano voluti... Dall'antica fortificazione. Perché no? Erano molto sotterranei rispetto alla... No, è il contrario, erano apparecchi sotterranei, quindi hanno visto i sottergerli rimettendo la pavimentazione e segnare un po' che si va sull'antica fortificazione. Ah, ok. Quindi sotto c'è. Sotto c'è però non è visibile. Sotto c'è però non è visibile. Quindi, come la chiamiamo? Luca, resti dell'antica... No, non sono i resti. Ah, è proprio la linea di resta. Allora facciamo così, non li segniamo... E non sono rovine. sono... Qual è il prezzo? Non mi ricordi. È una traccia, una traccia dei basi di scuri sulla pavimentazione della piazza che segue la linea dell'artificazione di costante che è stata trovata e la linea delle mure segna la traccia più scura. E dove stai? In piazza? Sì. Ok. Facciamo un'altra cosa allora. Segniamo il... Qual è l'estero di accesso in torno di quello che ha ricevuto in domicilio che sono delle tracce che rappresentano quello che ha reso delle tracce tra l'altro passo a usare Giosan perché quello l'altro non riesco proprio a usarlo. Vi invito a usare questo perché alla fine è facile. Non preoccupate. Lo aprite, inserite con F12, andate su F12, inserite username e password. Frecce in basso, scaricate i dati, evidenziate l'area che vi interessa, questa. Qui sotto è scomparso il monitor Download. Attivate l'Imagery. Abbiamo avuto l'autorizzazione da Microsoft per l'utilizzo delle foto aeree a fine di ritracciamento di dati OpenStreetMap. Vedete che appaiono le... Immagino sia il mercato della frutta. Il mercato del pesce. Ah, il mercato del pesce. Sì. Ma non so se ci fanno... Come si chiama? Come si chiama? Ha un nome? Ci fanno solo pesce da... Quello di fronte alla sala di ora. Sicuramente non lo so. Sicuramente non si chiama fruit market. No. Si chiama il mercato del pesce. perché quello nuovo poi sta... Quindi correggiamo il nome. Sì, il nome. Diciamo anche se in qualsiasi cosa quello è il mercato del pesce è l'antico. Quindi in ogni caso è un mercato del pesce. Sì. Sì. Adesso è un mercatino elettrico. Sì. È un mercato. Sono un mercato quindi non è solo mercato del pesce. Si chiama mercato del pesce però? Sì. Diciamo nella... Nella edificio si chiama. Sì. Ok. Perfetto. Esatto. Per farvi dare un aiuto potete schiacciare F3. Appare un elenco di possibili combinazioni. Potete scrivere ad esempio marketplace e vi suggerirà quali tag inserire all'interno del sistema. Ad esempio se c'è una società che lo gestisce potrebbe essere il comune. Gli orari di apertura che sono sempre molto utili. Conoscete gli orari? Tutte le mattine? Possiamo? Fino alle 8 possiamo dire lunedì sabato o lunedì 8.30-20 Applichiamo facciamo upload della modifica mi dirà che sto modificando mercato del pesce scrivo un breve commento su cosa stiamo andando a modificare caricato se ora andiamo su sm se andiamo sulla zona mercato del pesce potete chiaramente andare a vedere il dato grezzo attivando map data qui e potete andare a risalire a chi ha fatto la modifica dettagli o potete vedere lo storico è stato c'è stato un Peppe Ba prima prima c'è stato un Francesco Fradeve che conosco era con noi ieri e adesso c'è stata questa modifica fatta da me e poi potete andare a vedere il dettaglio e capire lo storico scusate ho selezionato il poligono e non eccolo qua questa è la modifica che ho fatto io mercato del pesce e si vede tutte le modifiche che ho fatto possiamo ad esempio sistemare il disegno questo qua è un po' storto schiacciando Q su Josem cerca di raddrizzarlo avete visto che si è raddrizzato possiamo anche ri allinearlo un pochino adesso a me sembra meglio di di come era prima potete raddrizzare tutte le cose solitamente si tengono le strade nella nella mezzeria segnata dalla dalla linea di mezzeria ad esempio questa è sbagliata vedete che attraversa totalmente e quindi si può raddrizzarlo diventa un po' una droga dopo un po' perché comincia a raddrizzare le cose all'inizio è millimetrico della iuola e qua sposti il più prendi sposti sposti il più si raddoppia puoi dargli una maggiore precisione idem qua questo comincia a spostarlo qua tac tac è spezzata questo lo spostiamo eventualmente eventualmente questo si tira dietro quello adesso le mettiamo vedete che qua è bloccato quindi dobbiamo selezioniamo il punto g sulla tastiera che sta per un glue riprendi il pezzo e adesso non è più bloccato questo lo metto parcheggiamo un attimo lì vediamo se anche questo è bloccato si g pure qua selezioni stacchi riposizioni andiamo a vedere sistemiamo 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 questo posizioni qua possiamo dire che finisca qui la piazza questo è il marciapiede ma anche se è tutto attaccato si si adesso ci dedichiamo la strada e questa posizioniamo anche qua sul centro già che ci siamo facciamo anche il passaggio pedonale F3 lo incarichiamo la cosa io so che si chiama va bene che lo tenga in inglese o lo rifaccio lo ricarico in italiano è crossing in inglese adesso crossing pedestrian crossing ok cos'è? F3 ah si scusa qua c'è una no sto facendo le strisce pedonali le strisce pedonali si identificano come un oggetto puntuale posizionato nel punto in cui effettivamente fai l'attraversamento quando comincerete a caricare anche i marciapiedi farete la stradina che collega un lato del marciapiede con l'altro del marciapiede eventualmente segnando l'altezza del marciapiede se c'è lo scivolo per i disabili se andiamo andate magari a vedervi Helsinki su OpenStreet trovate i marciapiedi con l'altezza del marciapiede con l'accessibilità tramite carrozzino F3 pedestrian crossing certo siamo qua apposta intanto completo non controllato aspetta fammelo finire scusa non controllato zebra non credo in Italia si possa attraversare con la bicicletta e non penso che ci sia un aiutante dell'attraversamento né tantomeno che tu possa attraversare ad orso di cavallo apply carico dimmi però già che ci siamo ci sono molti semafori che hanno la guida per ciechi il tasto o il tasto per la prenotazione o la guida per ciechi non so se è molti scivoli che hanno la guida per ciechi è il path per ciechi c'è e andate sulla wiki di OpenStreetMap grazie perché mi avevo dimenticato di mostrarla probabilmente andando qua in search no non c'entra nulla sì tactile paving eccolo qua traffic signal sound yes or no tactile paving questo interessa molto a voi i tag sono in inglese quelli che inserite nel database sono in inglese per garantire la compatibilità con il resto del mondo la mappa poi è in italiano si localizza vi mostro non l'ho ancora vista nemmeno io una cosa che mi ha mandato Luca Martinelli me l'ha mandato ieri sera non l'ho ancora questa è una mappa dell'India che parte dai dati di OpenStreetMap e li integra con i dati di wikidata in cui potete scegliere la visualizzazione scrivendo adesso qua vedete il nome in inglese potete scriverlo se c'è in italiano infatti avete visto non è cambiato molto ma il in alto Jammu è Kashmir è cambiato non va eccolo diciamo in Kashmir questi sono i nomi in cinese è la mappa in cinese dell'India questa è la mappa in inglese che vi ho fatto vedere prima in tedesco è un po' non va benissimo comunque in cinese va ZH non è CH è il CN cinese no CN è la la nazione ZH è legato alla lingua non alla nazione no al locale comunque questo è cinese penso questo vi dà l'idea di quanto si possano fare mappe di Bari per i tedeschi se avete il se qua nel mercato il mercato del pesce per i tedeschi si chiama in un determinato modo oppure scrivete il nome della spiaggia ditemi il nome di una spiaggia qui intorno è un stabilimento no è una spiaggia pubblica scriverete magari sulla mappa di Bari spiaggia pane pomodoro in tedesco potrete sostituire in automatico al tag riconosciuto che è spiaggia pane pomodoro strand che è spiaggia in tedesco naturalmente avendo il tag con il link a mispedia è poi facile fare dei rendering in varie lingue in difficoltà certo questo è un link data di altissimo livello il discorso che facevamo ieri dei link di open data non mi manca il collegamento c'è un tag c'è un tag in open street map infatti adesso andiamo sapete di qualche monumento già mappato andiamo a cercarla di cui sono state asportate le ripie per cui non si discute che quello è stato quindi infatti questo è questo è lui chi puoi vediamo se c'è la link alla beh questo deve essere una un'icona per cui è stato c'è un codice anche questi se avete ad esempio una placca in città potete sicuramente citare il codice il codice della placca c'è l'inca alla basilica esattamente no? non va bene? benissimo quella quella non è geocalizzato potremmo farlo potremmo fare il doppio lavoro di metterlo su wikipedia e open street map dai allora cominciamo da open street map io già so che mi servirà questa parte dell'url quindi me la copio nella nella cosa poi qua vi invito a completare questo questo incrocio perché io sennò non dormo stanotte adesso allora io salvo e così poi qualcuno lo modifica lo voglio vedere a posto prima che arrivo in aereo a milano andiamo da san nicola magari c'è un giorno metteremo il pallino su dove ieri sera abbiamo mangiato le sgagliozze e la maria potremmo metterla però perché è un landmark direi tipo il belvedere si si sei sing sarà magari una statua fra qualche anno con lei col pezzo di colare così le sgagliozze in mano mi aiutate a trovare san nicola sai vai ancora più su è questa portati verso il mare no 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 portati verso il mare vai su vai su vai su fai il curvone fai il curvone ancora ancora vai verso il mare sempre è attaccata al mare praticamente è qua siamo al mare ma non è quella no 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 salvi salvi ancora sì arriva bene è quella è quella è questa non è orientata nord sud è orientata est ovest è questa scarichiamo ah vi faccio vedere una cosa nuova che non ho ancora provato magari la proviamo insieme per mettere insieme per collegare open street map a wikipedia la facciata principale dovrebbe essere questa questa è la basilica selezioniamo vi faccio vedere in grande questo ma di solito rimangono attaccati a parte destra qua c'è tutto quello che è già stato caricato quindi si chiama place of worship luogo di culto è un edificio è cattolico e cristiano religione principale è denominazione della religione accesso con la carrozzina apparentemente sì se lo chiudo anche di ortodossi no ortodossi più sopra sopra la statua allora quello sotto la sopra e poi sopra la la messa la stovosa pure la e non si segna per esempio se c'è il doppio punto si si può aggiungere metti punto e virgola il doppio culto di solito però non sono mai nello stesso edificio no quello qua è uno delle pote ah ok si perché lo fanno anche nella critta ah ok facciamo add se non ci ricordiamo come si segna wikipedia anche se mettendo la w già mi dice wikipedia andiamo sulla wiki di open street map cerchiamo wikipedia e ci dirà cosa cosa si deve aggiungere per pubblicizzare il fatto che è su open street map scegliete voi la pagina di wikipedia dove è scritta con maggior dettaglio confido nel fatto che i nuovi strumenti di wikipedia più la barra della delle lingue che adesso non è più manuale ma è tratta da wikidata venga integrata in questo sistema per cui vi basta scrivere che fate riferimento alla voce in italiano wikipedia della chiesa di san nicola di bari e poi chi vorrà legge chi vorrà farsi il rendering saprà che dovrà andarsi a scegliere ad esempio quella in inglese per la basilica di san nicola noi mettiamo il link a quella al testo in italiano che verosimilmente sarà quello più aggiornato torniamo su joseph e quindi mettiamo come diceva la it due punti e il link alla pagina di wikipedia ok e adesso lo potremmo salvare potremmo anche andare su wikipedia a correggere e inserire le coordinate vedete che già ci sono nella versione in inglese e le possiamo aggiungere di là le prendiamo a questo punto le prendiamo direttamente da da wikipedia questo è c'è il template delle coordinate prendiamo torniamo la pagina in italiano modifica io non posso usare il nuovo editor questo è il nuovo visual editor di wikipedia adesso passo a quello classico vediamo se mettendolo qua funziona visualizzante prima e appare correttamente salviamo e compare correttamente su wikipedia inoltre se andate su visto un po' l'unione degli scopi dei due progetti se andate qua su map non so se avete notato da qualche mese appare la mappa di open street map con i monumenti nelle vicinanze e vedete che c'è una buona una buona aderenza situazione a questo punto anche per riagganciarci a quello di cui parlavamo ieri sostanzialmente abbiamo fatto l'inchiettata perché a questo punto da wikipedia possiamo saltare l'unione come programma possiamo saltare l'ipipedia europeana probabilmente avrà degli affreschi magari su degli affreschi dentro la basilica di san nicola che sono l'inchiettata di wikipedia e quindi di quattro e probabilmente i vari lingue tra l'altro adesso vi trovo una cosa bellina che è uscita recentemente da uno sviluppatore che si è messo a raccogliere le categorie dei monumenti in Italia confrontandole con quelle di open street map e qua torniamo a quello che diceva Michele open street map wikidata wikidata quindi il dato che sta dietro wikipedia sta facendo un confronto per vedere chi ha un'informazione chi ha l'altra quando sono comuni quando cozzano che sono sbagliate ci sono entrambi che sono sbagliate e sono diverse quindi per cercare di quantomeno di ordinare sapere unificare le fonti per il momento non è possibile però quantomeno sapere che questo oggetto corrisponde a quell'oggetto da un punto di vista logico è tanto e quindi ha fatto un bellissimo sistema e adesso vi mostro qui se vado a vedere ci sono gli articoli legati a diviso in temi e in regioni per come sono su open street ma per come sono su wikipedia ad esempio andiamo su luoghi di culto per regioni quindi se questi sono tutti oggetti che ci sono sono già mappati da una parte o dall'altra e necessitano di un'unione puglia vediamo se c'è basiliche della puglia c'è qualcosa di vicino che conoscete scusate ho aperto c'è qualcosa di vicino che conoscete basilica di san nicola è la stessa quindi questo è sbagliato è un errore forse no è giusto ah infatti scusa era sbagliato perché prima non c'era l'ho aggiunta io è vero abbiamo fatto il lavoro al contrario in pratica no no questo è stato generato ieri sera ieri sera la basilica di san nicola non aveva le coordinate su wikipedia ma le aveva su open street map e quindi qua lo segnalava come errore perché non era presente su wikipedia e ti diceva guarda la basilica di san nicola non ha le coordinate fate finta che quel link non c'è non ci fosse però ce l'abbiamo in open street map quindi vai a vederti su open street map dov'è prenditele e inseriscele in wikipedia adesso questo vale poco perché l'abbiamo fatto possiamo prenderne un'altra se volete se volete se no passiamo ad altro alle biblioteche possiamo provare anche un'altra cosa cimitero polacco di casa massima non so ci sono veramente tante di cose da se rimanete a secco di la grotta di putignano questo probabilmente ce l'ha di qua ma non c'è non è segnato su open street map vede se se non c'è di là quindi adesso questo è di chi l'ha open street map per esempio si qua andiamo a vedere sulla mappa si questo non te lo so indicare a occhio e quindi qua me lo segna sulla statale addirittura quindi non è neanche tanto preciso torniamo di là in josen di qua abbiamo caricato il abbiamo caricato il dato e l'abbiamo salvato sopra vediamo se c'è qualcosa da fare qua che vi viene in mente vedendo dai finiamo finiamo questo che è veramente fai la strada qua però mi raccomando per guai è sbagliatissima questa perché la strada non entra obbligatoriamente la strada è doppia è dritta da qua prosegue e fa questo giro questa è una deviazione quindi devi segnare gli svincoli segnare questo segnare questa stradina quest'altra stradina l'interno l'isola andiamo a vedere se c'è il Petruzzelli Petruzzelli Piccini Banca d'Italia se c'è gli edifici allora qua c'è il Petruzzelli qua immagino anche qua manca vediamo se c'è teatro Petruzzelli infatti manca è segnato correttamente il link ma manca si è nuovo come servizio geodati devi inserire tutto lo trovi? ok quindi torniamo qua mi aiutate a trovare Petruzzelli guarda dove stavi? non so dove sei io l'ho visto questo no questo no questa bisogna correggere questo palazzo che è proprio storto non dorme la notte eh ma se non c'è questa pignoleria esce una sicurezza corre che buco puga la porte poi proviamo a fare con selezionarlo con Q lo dovrebbe fare più o meno quadrato infatti torna ok andiamo questo era lo ma per la cartografia aerea che cosa usate? questo è Bing è Bing e abbiamo l'autorizzazione per farlo adesso vi faccio vedere approfitto prima di fare i Petruzzelli di fare un'altra cosa questo ad esempio è il palazzo questo è l'hotel vero? è l'hotel oriente è tutto hotel? no no non è tutto hotel no è il penultimo mi sa che Google è usato prima no non è quello è quello questo è l'hotel è quello ma è il penultimo quale? allora il vertice il vertice superiore sinistro solo questo? no no aspetta il vertice superiore sinistro scegli di uno quello è l'hotel questo è l'hotel no solamente uno di quelli un blocco ma anche questo è l'hotel no? no lasciamolo così poi ci pensiamo dopo ieri sera parlavo di una cosina che secondo me potrebbe avere un significato qua che è quella di caratterizzare gli oggetti esistenti come esattamente sono quindi così come abbiamo detto che questo parco secondo me è un posteggio potrebbe esserci il problema di identificare i posteggi che ufficialmente sono gratuiti gratuiti ma che gratuiti non sono perché devi pagare qualcuno per rimanere posteggiato in sicurezza quindi proporrei e comincio io poi potete dare la colpa a me a mappare questo posteggio che in alcuni orari della giornata è a pagamento ma non è ufficiale a pagamento ah guarda sei vicinissimo è tirato per il senso sì sì adesso no ti ho detto lo faccio adesso perché voglio fare faccio un volevo gestire un attimino il tempo per farvi vedere una cosa perché ha dei passaggi temporali e vi devo far vedere una cosa nel frattempo quindi faccio questo faccio l'upload e poi vi mostro vi mostro il risultato quindi facciamo faccio un piccolo un piccolo salto laterale e vi mostro un prodotto sempre basato su OpenStreetMap che si chiama Overpass che è un sistema per estrarre i dati in maniera semplice da OSM si chiama Overpass Turbo se andate slash OSMIT c'è una versione fatta di prova che ha fatto Martin quando è venuto a trovarci settimana scorsa a Rovereto che rende più semplice fare questo che vi sto per mostrare andiamo su Bari Bari zoomiamo un pochino giusto per non avere troppi dati poi quando se li restituisce qua c'è un wizard possiamo scrivere la nostra richiesta amenity uguale parking che è la chiave valore di OpenStreetMap legata ai posteggi e mi dice che a Bari in questa zona di Bari ci sono questi posteggi posteggi puntuali quindi qualcuno che ha messo solo il nodo qualcuno che ha messo l'area idem qua idem qua probabilmente c'è anche se allargo un attimino e rifaccio la query o altri parcheggi le P sono il nodo dove c'è la qualcuno che non aveva tempo di mettere il disegnare l'area ha semplicemente messo la P quando c'è il poligono solitamente si toglie il nodo perché è più preciso il poligono e comunque chi fa chi fa analisi dati è sempre in grado dal poligono di estrarre il centroide di riferimento quindi questi sono tutti i parcheggi andiamo facciamo ci fermiamo lasciamo questa immagine ferma qui perché poi ci ritorniamo fra qualche minuto questo è la rieseguo giusto per questa è la richiesta OpenStreetMap in tempo reale di quali sono i parcheggi su Bari possiamo fare un'esportazione e salvarlo in vari formati se siete sviluppatori magari vi interessa esportarlo in Gist che è dentro fa parte della suite di di Github e adesso magari guardiamolo lo potete guardare direttamente dentro la GeoJson.io che visualizza i dati direttamente su mappa e quindi qua potete fare un vostro ulteriore edit dei dati questa è OpenStreetMap basato sul rendering di Mapbox ora lo chiudo non ci serve ci teniamo questo oppure l'altra possibilità è quella di esportarlo tramite mappa interattiva e quindi vi centra già la mappa su Bari con evidenziati e lo fa tramite una query tramite URL alla Overpass in cui vi mostra il sistema in cui il sistema vi mostra direttamente il dato in tempo reale anche qua torniamo indietro la riesegue e la teniamo un attimino qua cosa voglio mostrarvi voglio mostrarvi che possiamo dare quella che secondo me è una maggior caratterizzazione della realtà visualizzando quali sono i parcheggi solo i parcheggi abusivi e gli orari in cui è abusivo però questa è una cosa che dovrebbe essere aggiornata di giorno in giorno perché basta che domani cosa che non succede perché noi li abitiamo sappiamo che sono tutti i giorni sono vestiti da cari malabitosi però il problema è che se domani questa situazione finisce se non c'è nessuno che controlla questa cosa hai totalmente ragione ma stesso discorso possiamo dire che se viene fatta una nuova autostrada non viene inserita mi rendo conto che sia un'informazione di estremo dettaglio questa che stiamo andando a fare ma è il fatto che sia di dettaglio non vuol dire che non sia importante e quindi non ci sia qualcuno comunità gruppi d'azione associazioni che siano interessante a fare la mappa di quell'oggetto e quindi dare una visione di quel problema e quindi potrebbero così come sono interessati a mapparli all'inizio siano disponibili a rimapparli quando poi cambia la situazione è vero tu mi dici è vero che lui non arriva sempre alle 8 di sera ma a volte arriva alle 9 però il fatto che io ho sbagliato di un'ora l'orario di arrivo del signor Luigi non vuol dire che il signor Luigi non ci sia o che non sia un dare un'informazione sì imprecisa però la do e do la possibilità con questo strumento a chi è interessato veramente a tracciare ogni singolo giorno in che ora arriva il signor Luigi a inserirlo è la granularità che cambia sì cioè a volte sarebbe meglio di ad esempio può capitare che in quella giornata hai beccato una persona che gli ha chiesto soldi che però non è un parcheggiatore abusivo ma è semplicemente una persona che ha deciso per un giorno di chiedere soldi a tutte le macchine che parcheggiate e succede qui entra in gioco la vostra competenza del luogo in quel giorno mi stavo chiesto soldi cioè non è un parcheggio cioè non segnalarlo come parcheggio abusivo ma questo è un altro diventa un altro tipo di mappatura diventa una una mappa come quella che sta realizzando più o meno come quella che sta realizzando su altri temi Chiara dove con Crowdmap dove tu vai a indicare gli eventi specifici quello che tu hai detto è una segnalazione di non mi hanno fatto lo scontrino fiscale quando sono andato al bar e poi crei statistica da questo oggetto qua invece mappiamo quella che per noi è la realtà se c'è consenso fra di voi nel dirmi che in quel posteggio davanti all'hotel dove alloggiavo io c'è costantemente il c'è costantemente un posteggiatore possiamo segnarla questa informazione io ero lì ieri sera infatti per ricordarmene per ricordarmene poi ho fatto infatti avevo fatto anche una foto per poi non era per ricordarmene avevo fatto una foto per ricordarmi del posto dimmi scusa 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 comunque ci sono dei parcheggi che sicuramente sono sempre presenti i parcheggi attori abusivi quindi magari si può iniziare da quelli giusto e poi diciamo l'altro fenomeno magari può essere inserito appunto in poi un articolo qualcosa di correlato a quei dati diciamo più stabili giusto esatto cioè se qua c'è consenso in voi nel dire che c'è un posteggiatore abusivo sempre che sia gestione famiglia Luigi o famiglia Mario c'è comunque e quindi secondo me ha senso inserirlo da qua a dire qual è il tag da utilizzare per inserirlo ho fatto una richiesta ieri sera alla mailing list italiana e adesso andiamo a leggerci le risposte che non ho ancora letto sì diciamo che l'archiviria più a volte cioè non è scientifico come metodo perché si basa sull'osservazione di quattro versione ma non è vero è vero sì però non stiamo disegnando la linea di costa italiana dove la precisione richiesta è alta ed è lì ed è sempre una qua stiamo comunque segnalando una situazione locale dove dove va dove necessariamente è transitorio potrebbe essere che settimana prossima la polizia faccia una retata generale su tutti i posteggiatori abusivi e quindi da settimana dopo non esiste i posteggi abusivi i posteggi dove viene chiesto con la polizia faccia la polizia faccia Grazie a tutti